Dio, questa è una persona che merita, altro che tanti che pare quasi che ti è vicini Guarda che dici Dio E' un grande Dio E' un grande Giuliano Calore, unico al mondo questo qua Eh si, questo è l'uomo di record Vai silenzio, vai silenzio Vedi che semplice che è, che personaggio Peccato che non lo faccio Dio, non lo faccio Siamo di una roba, sta in parco, ha un metro 46 centinaio Ciao, ciao Ciao, hai già visto vari video Guarda che esce il mio film a dicembre Ah si? Lei ti dà i dati per rinforzare il film Ma la liride del mondiale, ci vediamo anche noi Ah vedi vedi, dopo ti darò i dati per il film Ok Venite qua, venite qua che lì c'è Renato Staccato Zilio, Youtube Renato Staccato Zilio Ciao 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 Non voglio, 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 e quello è il mio guaio, mi ha rovinato, aspetta faccio un mattino qua, vado a buttare via questa natura lì, sì, sì, vai, e c'è anche vento tra l'altro, il vento in quel giorno è mica che io possa avere, no? Grande io, grande, grande Giuliano, unico! Questo è il numero uno, grande Giuliano, grande, grazie caro, sei un uomo d'oro, questo ha un cuore d'oro, eh sì, vedi la persona semplice, ma cosa che ha fatto questo non l'ha fatto nessuno, bisogna dire la verità, che la gente ti conosca tutti, che meriti. Adesso qua in agosto fa lo stebio, di notte, l'ultima impresa, dopo questo il film è a dicembre, mi pare che vi ha detto. Quindi vedremo il nome del film? Oh, che signor, se non so, io l'ho conosciuto a mano termo, due anni fa. E' un grande, è un grande, è un grande, è un grande, hai appassionato di ciclismo qua. C'è un Cagione che vi regalo un posto a quello, perché ce l'ho in macchina, va bene, ce l'ho in macchina, va bene. Grazie mille. Faccio vedere una fotografia di morire in Argentino. No, vabbè.